Salve ragazzi, pensate mai alla morte? Il giorno che magari arriva, quel giorno che arriverà, ci pensate mai? O magari state sempre presi nei vostri pensieri indaffarati, il lavoro del qua e del là? Ci pensate mai ogni tanto al giorno che verrà? Qualcuno forse non ci pensa, allora se qualcuno non ci pensa e non se lo ricorda, te lo ricordo io, te lo ricordo io, ricordati che devi morire, non scappi tanto, pure tu muori, pure tu muori, perché è la legge, è la legge della natura, se nasce e se muore, però non si sa come se muore, non si sa, non si sa, o magari se uno può fare una diagnosi appena nato già si sa quali potrebbero essere le predisposizioni fisiche che magari potrebbero caratterizzare un essere umano uno dall'altro, magari se uno nasce in un certo modo magari è predisposto ad avere un tumore, o avere la lucemia, o avere qualcosa che magari uno non vorrebbe, però c'è gente che è predisposta, e c'è invece gente che magari non ha tutta sta roba, però magari può morire di incidente, infarto, di vecchiaia, tante volte si dice, beh io te auguro che almeno arrivi alla vecchiaia, soprattutto ai giovani, ai giovani, te lo auguro, perché io sono stato giovane e mi avvicino alla vecchiaia, io sto nello scompartimento che sto per passare il buone per arrivare alla vecchiaia, all'anzianità, perciò io faccio due conti, ho fatto già due terzi da vita mia, già l'ho passati, me ne è rimasto un terzo, quale è stato il terzo buono, un buon terzo non è rimane, perciò già la maggior parte della mia vita l'ho già passata, e ogni tanto io ci penso, pensate che 6, 7 anni fa, 8 anni fa, pensavo se domani moro sono pure contento, perché bene o male ho fatto una buona vita, me la penso, pensando che ti invecchi, perché quando ti invecchi, il problema principale è la deteriorazione, insomma ti deteriori, voi basta che guardate, è proprio l'effetto, vaffanculo ancora con questa tosse, ecco morirò di tosse io, morirò di tosse, allora, basta che voi guardate, quando arriva la primavera, è l'esempio più lampante della vita, della vita e la morte, basta che voi guardate, quando arriva la primavera, e ci sono i germogli, le piante tirano fuori tutte quelle foglie belle, verdi, belle, avete visto, poi quando si avvicina l'autunno, cominciano a raggrinzasse, capito com'è, se raggrinzano e raggrinzano, fino a che, alla fine, se sono così raggrinzate, che non riescono più a tenersi all'albero, cascano, muoiono, ecco noi siamo così, noi siamo così, siamo come le foglie, siamo come quelle foglie, e io ripercorro, fino adesso alla mia vita, quello che ho fatto, quando ero giovane, quando ero giovane, pensavo che, che il futuro era lontano, era lontano, pensavo all'epoca quando ero ragazzo, avevo 15, 16 anni, pensavo io nel 2000, il 2000, pensavo al 2000 come una data lontana, quando finisci pure da pagare o da fare un qualcosa di nel 2000, era una frase che spesso all'epoca si usava, nel 2000, sembrava una data molto lontana, il 2000 l'abbiamo passato fra un po' da vent'anni che l'abbiamo passato, fanculo, il 2000 l'abbiamo passato da tanti anni già, e più va avanti, e più, e più la strada si accorcia, nel senso tu arrivi, si arriva a destinazione, non si sa, può essere pure che arriverà prima, che arriverà dopo, però piano piano, ogni giorno che passa, un giorno in meno, e tu ti avvicini al traguardo, ci pensate mai voi, io ogni tanto ci penso, ci penso perché, perché la vita, la vita, se uno fa una buona vita, diciamo che sta bene, è stato anche abbastanza bene, quando poi muore, alla fine, gli è scoccia morire, scoccia morire, e questa frase, c'è stato un regista, che è morto qualche anno fa, oddio, mi ricordo, oddio, mi ricordo, come si chiamava, oddio, non mi viene il nome, e lo intervistarono, diceva che aveva 90 anni, e lui disse proprio così, dice, mi ruota proprio il culo, perché so che fra qualche anno me ne andrò, infatti dopo due, massimo tre anni era, dopo se ne andava, a 92, 93 anni poi è morto, dopo due tre anni, ma ancora stava bene, ragionava bene, stava bene, però, sto fatto del regista che disse questa cosa così, gli ruoteva il culo, io all'epoca invece io la pensavo in modo differente, dico, vabbè, uno fa una bella vita, se ne va, capito, ha fatto una bella vita, invece no, proprio c'era ragione lui, c'era ragione lui, perché quando comincia a fare una bella vita, cominci a tranquillizzate, e sei arrivato magari a un punto, dice ok, ora sto tutto bene, potrei fare tante cose, e comincia a pensare a cazzo, se non moro perché non c'è un malanno, il traguardo è quello, un uomo medio, le tante da un uomo medio è da 80-85 anni, poi c'è qualcuno che supera gli 85, però 80-85 anni è arrivato il momento che uno se ne va, o magari te ne vai, se devi stare incoglionito e magari deve essere da pesa a qualcuno, è meglio che te ne va prima, così non rompi le palle all'altro, non fai passare gli anni, qualche anno, insomma, essere de peso, ecco, essere de peso, questa è una cosa che io non credo che farò, non farò, perché nel momento che non potrò essere più indipendente, ve lo dico proprio chiaro, papale papale, io mi suicidio, sì perché è normale, perché quando una persona non è più capace dei propri, sei più, come si dice, te devono mettere a letto, o te devono salvaguardare, o te devono portare bagno, sei de peso, sei de peso, sei una persona che tu, sei un po' camminare, un tempo muove, sei de peso, fai la vita de merda tu, e la vita de merda la fai fanno altri, e io credo che se dovesse mai succedere una cosa del genere, nel momento che sarò infermo, potrei rimanere infermo, o una cosa del genere, sicuramente l'ammasserò, perché non voglio, io, in carattere mio, non voglio essere da pesa a nessuno, a nessuno, questa è la prima cosa, perché è brutto quando tu devi accudire una persona, sapendo sì che gli vuoi bene a sta persona, però ti fa fare una vita de merda, ma è vero, guarda, veramente, tante volte, io vedo a volte tanti che accudiscono persone che sono proprio queste invalide, queste persone qua, io non ce la farei essere così, una persona che magari non riesco a camminare, insomma, devi essere come un ragazzino, un neonato, no, questo no, questo no, perché diventa, crea un sacco di problemi ai familiari, a chi te sta vicino, e questo spero da una rivaccia, perché se ci arrivo, nel momento che dovesse rivarci, penso che il suicidio sarà la mia, è la mia prima cosa che faccio, questo ve lo posso garantire, e il problema è che magari uno si arriva nella vecchiaia, ci saranno tante persone che arrivano, come ho detto, 85 anche a 90 anni, poi magari ispirano nel letto, perché magari il corpo, è come qua la foglia che vi ho detto, ormai il corpo, anche se tante volte tante persone, tu le vedi, questi che hanno 70 anni, 75, si tirano, i lifting, si levano le cote, le sampette le galline, tutte queste stronzate qua, ma quello che devi guardare è dentro, se fuori sei così tutto arrugato, e sei tutto un pisciato, dentro sei uguale, sei come fuori, non è che tu puoi ingannare il tempo, lo inganni esteticamente, ma il tempo non lo inganni, il tempo non lo fotte, il tempo non lo puoi fottere, perciò se tu ti deteriori esternamente, pure dentro, pure gli organi, tutto si deteriora, è inutile che tu ti fai la tiratina della pelle, ti tirati sulle tette, te le stili tutte, te levi il doppio mento, se ce l'hai, te levi, capito, tutte queste cazzate qua, sì, gli inculi qualche anno, ma quello è tanto, il giorno 2 è quello, la vecchiaia è quella, arriverai tanto, dici sì, però ci arrivo in modo un po' più giovanile, forse, forse, ma le sofferenze sono uguali, perché se sei così te crepito fuori, sei te crepito pure dentro, punto, perciò quello che conta non è tanto l'esterno, ma è l'interno quello che conta, certo è vero, avere un bello aspetto, è bello, non è, certo, se uno c'ha, se fa due tiraggi, c'è tanta gente che tira, 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 un bellico gli è arrivato qua sotto, perciò che tira, ancora che vuoi tirare, perciò uno dovrebbe accettare anche, secondo me, un po' la vecchiaia, come viene, viene, con le rughe, con le cose, e tanti non l'accettano, perciò è inutile, alla morte non si scappa, noi umani, noi, per il momento, moriamo tutti quelli che sono nati adesso, tutti quelli che stanno nascendo, vaffanculo, tanto devono morire tutti, allora, però c'è un, forse c'è un sistema, che me lo dà il culo per questo, me lo dà il culo, perché io avrei voluto vedere il futuro ancora via avanti, so che fra 150-200 anni, le persone, insomma, gli umani, non saranno più umani, questo lo so per certo, lo faranno, i potenti, chi avrà soldi, chi sarà bene, avranno una vita immortale, avranno una vita immortale, perciò a quelle persone, ogni po' di tanto, ricordati che devi morire, perché loro non moriranno più, chi nascerà e sarà, tipo il popolo, o magari quelli che è, le persone continuano a nascere e a morire, ma chi avrà il privilegio e i soldi, sarà immortale, sarà immortale, sarà immortale, gli ultimi saranno i primi immortali, che poi daranno loro la dinastia a chi dovrà essere immortale, questo sarà, perciò, dalla parte la scoccia, perché avrei voluto vedere, se se potesse mi farei ibernare, ecco adesso, quest'anno, fin l'anno mi faccio ibernare, e mi faccio risveglia fra 200 anni, perché magari c'è il sistema, come ho detto, per avere la vita eterna, però per avere queste cose, penso ci vorranno soldi oggi, non so, un domani, se saranno sempre soldi, se ci saranno i soldi che daranno il movimento mondiale, soprattutto il movimento si muove i soldi, non so se saranno i soldi, o se sarà in un altro modo, questo non lo so, e dalla parte la scoccia, perché so per certo, che esisteranno persone che non moriranno più, e questo non è scoccia, perché, tanti dicono, vabbè, ma la vita lunga, non lo so, non lo so, è vero che quelli che saranno immortali non saranno più umani, veri umani, saranno mezze macchine e mezze umani, vedo l'anteprima, proprio vedo l'anteprima, l'immortalità, allora l'immortalità sarà questa, quello che noi abbiamo nel cervello, tutto quello che abbiamo nel cervello, perché tutto parte dal cervello, tutto parte dal cervello, il corpo è un involucro, il corpo diciamo che non conta un cazzo, è relativo, perché tutto quello che comanda dal cervello, dal cervello parte tutto, però il cervello, tutto può cambiare, il cervello non si cambia, però lo puoi spostare, lo puoi spostare, lo puoi spostare tramite file, come succede oggi, quando fai il telefonino, che mandi un file, soprattutto il telefonino, il computer, mandi un file, carichi qualcosa, immagazzini la memoria, tu metti dentro, qui c'è la memoria, tu sta memoria la sposti dentro un chip, io mi ricordo i primi computer, quando ero ragazzino, il Commodore VIC-20, il Commodore 64, io mi parlo di 40 anni fa, forse pure di più, e si compite, avevano una memoria, che paragonata a quella di oggi, è zero, è zero, e potevi mettere due stronzate, i primi, proprio i primi, io pensate ragazzi, nel 1995, fece il primo computer, Windows 95, il computer, e c'era 350 MHz di memoria, 350 MHz, un cazzo, un film forse, se puoi mettere dentro un film, io spesi all'epoca un milione e mezzo, sarebbero 750 euro, per mettere un processore che aveva 450 MHz, 100 MHz in più, un milione e mezzo di lire, 95, 96 anni dopo, perché c'era poca memoria, sono passati 24 anni, più o meno 23, 24 anni, pensate, oggi un computer, un mare di memoria, basta che vedete pure i smartphone, che c'hanno, c'entrano dentro, per esempio, uno smartphone, quello che c'ho io, che c'ha 150, 180 GB, un botto di roba, ce potevano entrare dentro lì, in quella memoria, almeno, almeno, se fate il conto, per tre volte, 450 computer, 450 dentro al telefonino, pensate, pensate, 450 pezzi di quelli dentro al telefonino, che tu potevi infilare, una cosa astronomica, all'epoca, e un giorno, l'immortalità, sarà per quelli che magari riusciranno a passare i loro pensieri, i ricordi, gli odori, la luce, tutto, tutto quello, dentro a un chip che verrà spostato in una macchina, tu nel senso, tu entrerai, il tuo chip entra dentro una macchina, una macchina, se sarà di titano, non so da che cazzo è, fatta tipo, tu sarai come una persona vera, umano, sembrerai un umano, solamente che dentro alla testa di questa macchina c'è il tuo chip, che avrai immagazzinato tutti i ricordi, i pensieri, le cose, tutti del corpo che hai, il corpo va a fanculo, il tuo cervello con elettrodi, insomma, stavano a spiegare queste cose, passerà tutto in questo chip, automaticamente infileranno il chip nella macchina, apri gli occhi e tu tornerai in vita, è come se tu ti sei fatto un sonno, una dormita, ti risvegli, sei sempre tu, perché quello che conta è il cervello, ricordiamo, è tutto quello, le funzioni, e tu tornerai a vivere, come se non fosse successo nulla, questo, però purtroppo io, voi, tanti, non ci staremo più qua, non ci staremo più, la razza umana continuerà, però i privilegiati avranno questo, e avranno questo qua, da una parte mi scoccia, da una parte della verità, mi scoccia, mi scoccia, per questo quando si pensa da poter fare poi viaggi su altri, altri mondi, così li puoi fare, perché anche se te sfasciano, è come una scatola lena, dentro la scatola lena c'è quel chip, che è indistruttibile, ti possono distruggere il corpo, sfasciano, ma una volta che tu li levi, e lo infili da là, tu ti risvegli con l'altro corpo, sei sempre tu, però, con maggiori ricordi, maggiori cose che tu hai visto, tutto qua, devi andare immagazzinato nell'altro corpo, se tu dovesse succedere qualcosa che magari si distrugge il corpo, per farlo capito, questa sarà la vita eterna, quella che tanti parlano della vita eterna, sarà questa, perciò ragazzi, io ve lo dico, voi, io voi, vi dovete ricordare che dovete morire tutti, da qui a 200 anni morirete tutti, poi ci sarà un'evoluzione che cambierà tutto il sistema umanitario, dell'umanità, tutto il sistema umanità, ok, pensateci bene e godetevela tutta, perché la vita, io penso una cosa, la vita è una cosa bella, è una cosa bella, purtroppo quando ti avvicini, e che scoccia, e ricordando, non mi viene in mente il nome del regista, che è morto qualche anno fa, mi colpirono tanto, mi colpirono, perché veramente è una cosa, sì è vero, quando fai una bella vita, uno dice, ho fatto una bella vita, tu immaginate, tu sei pieno di soldi, donne, ricchezza, migliore, fai quello che cazzo, devi morire, te lo dico, non è il mio caso, però ho fatto una bella vita, una buona vita faccio, non me la mento, però mi scoccia, tante volte si parla che magari ci sono quelli che stanno veramente a pezzi, che hanno proprio la vita di merda, che non hanno soldi, un sacco di problemi, tante volte questi, fa disperazione, si tolgono la vita, perché pensano che la vita è uno schifo, è uno schifo veramente, purtroppo, purtroppo è così, purtroppo immaginate chi magari è ricco qua e là e se ne deve andare, e tutta sta ricchezza che ci arriva, che cazzo ci fai? Che ci fai? Niente, non serve un cazzo, la ricchezza o tutto quello, il potere che avrai oggi, quel potere che tanti hanno oggi, ricchi, potenti, è, fra 200 anni, potranno cambiare la carta e dire ragazzi, io adesso divento immortale, è l'essere umano, normale, quello che non potrà, se la vi rende il culo, e questa è una cosa che scoccia, non è scoccia, ciao regà